La bestia cos'è? E' un sistema di comunicazione che ha fatto diventare Salvini il politico d'Europa più seguito in rete. Comizi, apparizioni TV, post e dirette sui social vengono integrati costruendo una comunità di follower che reagisce puntualmente agli stimoli. Consenso da un lato, individuazione del nemico dall'altro. Un noi costruito contro qualcuno. Non è mai Salvini a sbranare la preda. Ci pensa la bestia, cioè la comunità dei seguaci. Lo hanno sperimentato Ilaria Cucchi, Fabio Fazio, Mario Balotelli, Oliviero Toscani, Laura Boldrini, Lapo Elkan e soprattutto lei, indicata per anni come il nemico numero uno, Elsa Fornero.